ciao a tutti benissimo grazie a tutti buonasera ben arrivati e grazie per essere intervenuti a massa voi direte sempre ma perché gli serve a massa? voi fai a sapere ma io sono già un po' peggenti diciamo che mi hanno detto che sono occultista, un tarologo, è vero è vero, io sono occultista, un tarologo e diciamo ho fatto alcuni anche dei lavori insieme al dottor Luca Tacchi che non nasconde il fatto che si occupi anche lui di esoterismo ma in senso buono attualmente che molte persone collegano l'esoterismo con cose cattive, il male, il buio eccetera eccetera, non capite una bella sega, bisogna che ve lo dica in tutti i modi. Bene, con noi sempre Franca da Criscio, grazie Franca per essere intervenuta, grazie ecco, buonasera e poi dottor Luca Tacchi qui con noi come da dante prima avete visto che tratteremo una una cosa che ultimamente sta andando per per la maggiore, cioè i vari collegamenti che ci fanno pensare che il mostro di Firenze e Zodiac siano la stessa persona. Allora, io però anche devi fare così comincerei a far parlare Luca poi noi in caso mai interveniamo se abbiamo delle domande. Luca mi ha mandato delle delle cose, io le ho salvate tutte sul desktop ora io però non so in che ordine tu le voglia far vedere io le metto poi magari mi direi tu se vado bene o no ok? Sì, intanto appunto l'oggetto di cui voglio parlare oggi è quella che sta per diventare diciamo come dire un'altra pietra dello scandalo che è la lettera del Vagheggi che appunto è stata ne abbiamo parlato con Valeria Vecchione l'altra sera che abbiamo fatto quella piacevole chiacchierata io l'avevo già studiata per la tesi ma non l'avevo inserita perché praticamente è c'erano troppe cose da dover studiare cioè tutta la questione della dell'astrologia ti posso interrompere un attimo allora siccome in questo momento mi sono mi sono accorto di aver fatto una bischierata cioè la Franca però mi deve mi deve scusare la Franca mi ha chiesto e questo è perdonatemi questa è tutta colpa mia quindi lo propria dire con lei la Franca mi ha chiesto facciamo un podcast e io ho detto di sì purtroppo però di ora devo far vedere le immagini quindi Franca non sarà un podcast ma sarà ora mi dispiù ti chiedo scusa davanti a tutti perdonami non me lo ricordavo quindi se Luca vuole evitare di farvi delle immagini lo lasciamo come podcast se Luca ha necessariamente bisogno di vedere le immagini io mi piglio di tutta la responsabilità e chiedo scusa alla Franca perché lei me l'ha anche chiesto le puoi mettere come immagini tanto sono poche le puoi fare un collage sul sulla presentazione che rimangono fisse così anche chi capito facciamo così quindi se troverete le immagini vuol dire che ha vinto questa teoria mi dispiace perché Franca me l'ha chiesto è un po' che so come tutte le donne che partecipano a questo programma mi dicono ma ci si vede noi a telecamera sì allora devono presentarsi tutte belle truccate capelli anche io anche te ti fai sempre i capelli tutti belli lisci che mi chiamano ma la Franca pur essendo una bella donna anche così ora non è truccata al nature però vabbè dai metterò in copertina va bene allora dice acqua e sapone sì vabbè il nature è acqua e sapone tra i miei che se lo offende è come se fosse la mia sorella dai non ti amo a sottilizzare vai appunto quindi anche il sapone è la canzone degli stadio però bisognerebbe tu andare a vedere il testo di tutta la canzone però vabbè ne parleremo in altra serie vai vai Luca quindi dicevo la appunto la lettera dei vagheggi che io volevo inserire in tesi ma non sono riuscito a come dire a inserirla perché perché trattando di astrologia sarebbe diventato nemmeno un capitolo un'altra tesi nella tesi e quindi ho dovuto eh far finta di nulla nella mia tesi ma comunque l'avevo studiata l'avevo studiata ne avevo colto alcune eh questioni molto particolari al di là della della diciamo della lettera in sé ma proprio anche della delle delle date che ci sono delle delle effemeridi quindi è è un argomento molto complesso oggi tratteremo solo una parte che è quella che comunemente viene chiamata perizia calligrafica o perizia grafologica partiamo con eh un dovuto disclaimer cioè non non è quello che faremo adesso non è una vera e propria perizia perché perché non abbiamo il 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 materiale sotto mano in originale ci mancano tantissimi eh altri riferimenti quindi faremo una chiacchierata tanto per aumentare l'attenzione su questa su questa lettera in modo che già ci si inizi a fare delle riflessioni sopra io cercherò di essere il più possibile asettico infatti già vi dico che non è una perizia è una chiacchierata da lì però faremo delle riflessioni per capire come che funziona il mondo della calligrafia e della grafologia sono due argomenti differenti la calligrafia cioè la bella la bella scrittura la calligrafia è la perizia calligrafica è quella che eh tratta dello studio della del tipo di scrittura cioè come materialmente eh l'autore di uno scritto l'ha eseguito e il paragone tra due o più scritti per capire se possono essere eh come dire attribuibili alla stessa persona è una sorta di studio di un'impronta digitale praticamente però non ha tutto il valore scientifico che ha invece l'impronta digitale infatti la perizia calligrafica aiuta soprattutto non tanto per capire se l'identità è la stessa ma più che altro per per studiare tutto il manoscritto sia come perizia merceologica quindi della carta e dell'inchiostro sia per il tipo di poi di tratto che è stato usato per capire se ci siano delle assonanze o se molto spesso capita molto importante se effettivamente quella parola scritta è quella perché spesso noi pensiamo la perizia calligrafica io capisco se è stato il signor X a scrivere no in realtà talvolta è per dire ma è la sua la firma oppure quella parola lì esempio la classica scritta del dottore che non si capisce nulla quella parola è effettivamente per dire appartamento e invece che appartamento è arredamento immaginatevi voi su un quel che si dice un testamento scritto autografo se uno scrive una parola che non si capisce se è appartamento o arredamento se voi siete ad esempio gli eredi o un erede incontenzioso dice lascio cosa a me l'arredamento o l'appartamento e quindi già esempio la perizia calligrafica può entrare su quegli argomenti lì appunto c'è una parte merceologica che è determinante perché anche l'utilizzo di un certo tipo di penna può far capire se è sempre fatto dalla stessa persona perché ci sono persone che sono abitudinarie chi ha sempre la Montblanc chi invece va con la BIC rubata in ufficio ok quindi ci sono tantissime spacciettature che ovviamente non si possono trattare se non si ha tutti i documenti in mano tutta la documentazione possibile e anche poi la documentazione eventuale probatoria che si vuole attribuire alla persona sottoindagine o altre questioni e poi c'è la perizia grafologica la perizia grafologica è la l'intenzione di attribuire degli aspetti psicologici o emotivi comportamentali al modo in cui eh un autore scrive un manoscritto esempio la perizia grafologica la cosa più tipica è l'orientamento del 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 testo se vi ricordate quando scrivevate tanto a mano molti di voi facevano delle scritte che erano inclinate partivi in angolo in alta a sinistra e poi man mano le le frasi man mano che andavano a scrivere la capolettera tendeva a essere sempre leggermente più a destra oppure man mano che andavo a scrivere l'ultima lettera della riga prima di andare a capo tendeva a essere sempre meno verso il fondo del foglio e quindi tendeva a rastremarsi tendendo verso sinistra eh questi questi modi di scrivere lo stesso anche il fatto di non riuscire ad andare dritto ma eh scrivere fra virgolette quasi a spirale anche quelli possono essere dei problemi di ansia ansia del futuro ansia del passato si tende a dire che se la capolettera tende ad allontanarsi dal margine del foglio eh eh ansia del passato e eh invece se la lettera finale tende a a quindi ad allontanarsi a cioè a non avvicinarsi a avvicinarsi sempre meno alla fine del foglio è ansia del futuro poi in realtà c'è anche la calligrafia in sé che eh appunto una un tipo di scrittura molto piccola può voler dire altre cose più grande può voler dire altre cose il modo di inclinare la lettera più o meno è aggressività oppure no insomma è una serie di spacciettature che chi vuole approfondirle si fa un bellissimo corso di grafologia di calligrafia perché è una una cosa molto affascinante io un po' l'ho studiata per per gli studi che ho fatto anche alle superiori più anche per il diletto mio quindi alcune eh anche perché nella pedagogia è molto importante per capire se il bambino tende ad avere dei eh dei problemi ok te da come il bambino scrive da come il bambino disegna facendoli determinati anche esercizi capisci se ci sono dei problemi fino anche la violenza eh domestica sessuale eccetera eccetera quindi capirete che è un argomento molto profondo molto importante e eh va conosciuto se si vuol trattare determinati argomenti noi ne vedremo una piccola finestra che chiaramente perché non abbiamo la possibilità di fare uno studio approfondito però eh ci sono appunto delle correlazioni molto curiose tra eh tra alcune tra alcuni documenti allora eh ci sono eh vari scritti fatti da Zodiac molti sono stati attribuiti in modo certo altri sono come dire eh stati attribuiti sono apocrifi alcuni poi sono stati fatti anche battuti a macchina quindi parleremo soltanto dei cipher attribuiti allora partiamo su su una riflessione molto importante i cipher di Zodiac sono estremamente precisi sono fatti da una persona che aveva un tratto molto deciso molto preciso utilizzava una penna molto particolare perché non lasciava evidenti sbaffature e non lasciava nemmeno gocce d'appoggio nel momento in cui andava a disegnare quindi eh se voi pensate che lui ha messo giù 300 caratteri tutti perfettamente allineati eh senza appunto le deviazioni che dicevamo se voi vedete i cipher di Zodiac sembrano fatti con una griglia come con una maschera lui dove uno a uno ha messo questi caratteri la peculiarità di questi caratteri detto da persona che comunque ha fatto studi artistici quindi ha disegnato dipinto eccetera eccetera non manifestano la stanchezza tipica del tratto di quando si fa delle cose ripetitive quindi era sicuramente una persona che quando lo faceva non è che lo faceva proprio controvoglia anzi perché mantiene più o meno ma sempre la stessa energia e questa è una cosa che a me mi ha colpito moltissimo perché per chi capita di voi che ha un lavoro dove deve fare centinaia di firme al giorno a me capita di dover fare per vari motivi firme su registri le classiche virgolette scrivere in modo estenuante centinaia di volte la data il nome perché fa parte del lavoro e quindi si tende a fare delle delle caratteri ripetitivi lì c'è chi riesce a farli tutti uguali per dire io se io non devo fare esempio devo fare la firma la mia firma verrà praticamente quasi sempre identica cambia veramente di pochi millimetri lo stesso se devo fare le classiche virgolette del vedi sopra uguale a quello sopra le virgolette più o meno mi vengono sempre uguali la mia particolarità è quando le vado a fare che tendo a sbaffare ovvero io non stacco la penna tra una virgoletta e l'altra ma faccio una specie tra virgol diciamo di n perché perché sono pigro perché mi pesa la mano perché faccio un lavoro rapido e dove comunque la precisione lascia il tempo che trovo e quindi tendo a fare la cosa il più rapido possibile senza curarmi eccessivamente della forma però cerco di fare comunque un lavoro preciso Zodiac invece quando va a fare il cipher sembra una macchina da scrivere cioè non fa nessuno sbaffo ma fa dei piccolissimi come dire nemmeno errori ma delle variazioni tra un carattere e l'altro soprattutto che si vanno a notare quando fa tre caratteri simili esempio tre triangoli tre tondi tre quadrati allora vedi che c'è una e tra le immagini dovresti averci quella dei tre pallini vedete che ci sono delle come dire delle cioè non sono dei cerchi perfetti ma sono dei cerchi che tendono ad essere un po' più largo un po' più schiacciato un po' più largo però con una specie di come dire di armonia sembra quasi una palletta che rimbalza perché perché appunto lui sta facendo tre disegni un accanto all'altro è un disegno ripetitivo c'è chi li fa identici tipo io tendo a farli il più possibile identici invece c'è chi invece va a fare diciamo dei piccoli errori che non hanno un'importanza di per sé perché si capisce che non fanno perdere di significato però è un modo di è un attributo diciamo della calligrafia in quel momento questa questione qui si nota poi invece cioè invece si nota anche queste due caratteristiche quindi di un tratto eccessivamente preciso cioè è veramente perfetto senza sbaffo e senza goccia d'appoggio si nota anche nella lettera del bagheggi la lettera del bagheggi appunto internamente contiene una griglia fatta penso a penna perché non è una griglia fatta tutte della stessa dimensione ma sono delle righe tirate incrociate a modi tabella ma non tutte hanno la stessa larghezza con a sinistra al normografo una serie di dati di numeri messi appunto con il normografo che sono le effemeridi poi spiegheremo cosa sono le date degli anni cioè gli ultimi due decimali degli anni quindi ci sarà 68 74 81 81 82 83 84 85 più c'è un'altra data finale che è tratta che è una strisciata nera che sarebbe il praticamente una sorta di rebus chiamiamolo così semplicemente hanno chi l'ha fatto ha messo diciamo una sorta di rebus che poi scopriremo in futuro che sarà il 1990 al 21 giugno comunque nella lettera c'è un rettangolone nero poi nelle tabelle a griglia ci sono in alto i pianeti e la luna il sole dello zodiaco e dell'astrologia cioè quelli usati per fare i calcoli dell'oroscopo alla Paolo Fox e e poi nella tabella vera e propria ci sono tutta una serie di simboli zodiacali ora la peculiarità prima di questi di questi simboli che sono i simboli arcaici sono i simboli quelli dell'astrologia storica quindi è già qualcuno che comunque al di là di insomma di capirne era molto cioè era un come dire un esperto dell'argomento perché perché oltre a essere i simboli arcaici ci sono anche i simboli minimi che servono per fare un calcolo astrologico cioè non ci sono ridondanze se io dovessi fare una cosa di cui non capisco nulla e devo mettere giù dei segni di cui non capisco nulla abbondo tendo alla ridondanza perché perché nel più c'è il meno io non ne capisco più di tanto metto le cose che vedo che sull'effemeridi mi dà voglio creare appunto ansia allora io ci metto tutto quello che mi verrebbe sull'effemeridi lì invece ho messo solo quello che è il minimo indispensabile come se fosse effettivamente chi poi quell'oroscopo lo va a calcolare quindi già come dire è un addetto ai lavori che capisce di zodiaco ogni la parola non è casuale e ha messo lì dei simboli particolari quando si va a vedere i simboli i simboli sono fatti a quanto pare sono fatti a mano quello che si capisce dalla fotopopia anche lì prima cosa che emerge che i simboli sono fatti con un certo grado di precisione dove non ci sono gocce d'appoggio non ci sono sbaffi di velocità e le e le forme anche lì tendono ad essere come dire armoniose cioè sono tutte delle forme della stessa grandezza ma anche lì ci sono soprattutto per i gemelli si vede bene doveste averci la foto anche dei gemelli ci sono queste immagini appunto dei gemelli che tendono a essere seppur della stessa dimensione molto differenti perché perché i gemelli sapete fatto appunto come il secondo romano quindi con due linee verticali parallele e due orizzontali parallele a fare in testa e una ai piedi le linee orizzontali tendono nelle ripetizioni a variare questa variazione che ha quindi che non sono perfettamente parallele tendono a essere quasi tronco di triangolo ok vengono scritte dall'autore variando leggermente questa inclinazione curiosamente c'è una certa armonia chiaramente così guardandola con quella dei dei cerchietti e dei quadrati e dei triangoli che c'è sui cipher in generale quindi quando va a fare delle riflessioni c'è questa sorta di bouncing questa sorta di saltellare della figura che si allarga e si stringe si allarga e si stringe e lo stesso anche i tre simboli dei gemelli tendono a fare questo strano movimento di aprire e chiudere le due linee sopra e sotto testa e piedi ma la cosa che più mi ha acceso perché io poi sono andato non tanto a cercare queste cose qui perché chiaramente sono sensazioni sono come dire sono appunto cose che hanno il valore che purtroppo non abbiamo uno scritto del mostro di Firenze attribuito al mostro di Firenze tale da poter paragonare la calligrafia abbiamo solo questi pochissimi simboli del bagheggi che non sappiamo nemmeno se poi è attribuito al mostro di Firenze quindi stiamo veramente parlando tra virgolette del nulla però è bene come dire capire come funziona la calligrafia in modo poi anche da da potersi poi fare delle riflessioni in un secondo momento quello che sono andato poi a cercare sono le figure identiche che ci sono tra i cipher e quella tabella lì l'unica figura veramente identica che abbiamo è il simbolo dell'ariete il simbolo dell'ariete è una specie di di palmina quindi una è un simbolo fatto che tanto lo dovreste vedere in sovraimpressione è una come due manici d'ombrello accoppiati ok a mo' di palmina questo simbolo qui zodiac lo fa lo usa molto spesso rovesciato quindi a mo' di ancora mischiato con altri come con altri vezi in modo da farlo diventare un simbolo via via più complesso però lo utilizza anche come appunto messo ad ancora come simbolo per i suoi cipher ora è un simbolo complesso dunque per parlare di calligrafia sappiate che quando si deve fare un paragone tra la calligrafia di un manoscritto con quella di un altro si va a cercare le lettere quelle sentinella ok quelle che tendono a essere molto più rappresentative e particolari esempio può essere la F la G il modo in cui io scrivo la R tra una parola e un'altra la V oppure la O e la E da sole in modo per vedere se ci fa il ricciolo o non ci fa il ricciolo il puntino della I come lo vado a fare ok se lo faccio o se non lo faccio quindi però quelle che sono più rappresentative esempio sono la F e la G perché perché sono quelle più complesse c'è chi le fa in un modo che in un altro e e quindi bisogna fissarsi su appunto una 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 lettera specifica e cercare se ci sono dei ritorni tra i vari manoscritti quando si va ad analizzare una lettera complessa quindi non è soltanto la forma ma anche la meccanica la dinamica con cui il l'autore ha scritto la lettera quindi è partito da facciamo l'esempio della G maiuscola dell'alfabeto ok quella praticamente in stampatello scusate la G in stampatello la G in stampatello io posso farla facendo una C e poi aggiungendoli un'altra linea orizzontale oppure faccio la G e gli metto una freccetta oppure faccio un unico movimento e poi in fondo faccio una una sorta di 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 mezza Z e quindi farò il cerchio della C e una sorta di mezza Z di Zorro per fare il gambetto della G oppure faccio la C stacco la penna e faccio una freccina diciamo per fare il gambetto della G ma non l'attacco lo stacco oppure lo metto ma è intrecciato col col pezzetto della C ok tutte queste possibilità oppure faccio la G ma gli faccio una specie di ciuffo all'inizio quando appoggio la penna faccio una sorta di ciuffetto di tirabaci e poi tiro giù la C e poi faccio sono varie meccaniche ok ognuno la fa in modo suo poi la posso fare perfettamente circolare la posso fare schiacciata la posso fare ellittica posso farla squadrata cioè anziché un tondo faccio più gesti per fare la sci della G ok farò la parte iniziale poi faccio la schiena e poi farò il ricciolo della insomma del finale ognuno la fa in modo suo però quello che rimane è la meccanica con cui la vado a fare la meccanica con cui la vado a fare la ritroverò tutte le volte che faccio la G anche se la G non mi viene identica proprio che dici cavolo è un copia e incolla però si vede comunque che dice ok ha fatto comunque la prima parte poi ha fatto la schiena poi ha fatto un pezzetto poi ha fatto un altro ha fatto in quanti movimenti in uno in due in tre in quattro in cinque e quella è una G stampatello se iniziamo invece a fare lo script o addirittura il corsivo la cosa si complica ancora di più e quindi dovrò capire con quanti movimenti l'ha fatto quali sono questi movimenti e da dove è partito e dove è finito ok si parte dall'alto si va verso il basso poi si ritorna su poi si va dipende esempio ora per proprio per parlare di questo simbolo dell'ariete quello che mi ha incuriosito è il modo in cui l'ha fatto appunto dicevamo che sono due sorte di ombrellini di manici di bastone o di canditi no c'è il ricciolo che va giù e poi ritorno su e rifaccio un altro ricciolo a mo' di palmina lui non lo fa con un gesto solo lui lo fa con tre gesti diversi fa e nella lettera del bagage fa una prima parte dritta poi fa un angolo va giù quando va giù senza fare segni accessori sbaffi colate di inchiostro nulla precisamente sul tratto ritorna su e fa l'altro ombrellino ok quindi fa tre gesti la cui peculiarità è il fatto di non fare un ricciolo sotto per dirvi io se dovessi fare una roba del genere molto probabilmente conoscendo come tendo a disegnare a scrivere le cose piccole così a me verrebbe una pancetta sotto cioè farei probabilmente la prima curva diretta poi andrei giù nel momento in cui ritorno su per fare il secondo il secondo ombrellino secondo corno dell'ariete farei praticamente un'asola perché non andrei con la penna di nuovo su se stessa ma farei una sorta di ricciolo sotto perché di solito faccio così perché non c'è un motivo non c'è un giusto o uno sbagliato ma il sistema con cui normalmente si disegnano certe cose quindi conoscendomi probabilmente non sarei stato così preciso come lui quello che però appunto mi interessava di capire era questo fatto che usava tre gesti di cui uno era una linea dritta che creava poi un angolo non rotondo ecco un angolo un angolo veramente con due con due tratti mentre l'altra curva li veniva tonda andando a vedere i cipher molto spesso l'ancorina cioè l'ariete rovesciato che lui usa come simbolo per la cifratura ha lo stesso tipo di tratto cioè ha una parte rotonda ha il gambo che non presenta macchie sbaffi riccioli asole o doppi segni linee parallele grassetti ok lui va precisamente sopra il tratto senza senza fare errori e e poi l'altra parte tende ad avere un angolo un po' più vivo quindi che fa uno due che torna indietro e tre l'ultimo gesto chiudo l'ultimo l'ultimo sbaffo diciamo l'ultimo l'ultima curvetta dell'ancorina questa cosa qui mi ha abbastanza appunto come dire suggestionato proprio perché soprattutto con la precisione del tratto il fatto di non lasciare né macchie d'appoggio né sbaffi finali vuol dire che comunque era uno intanto che sapeva disegnare due una persona molto precisa con anche nell'utilizzo dei materiali di cancelleria normali cioè comunque tanti quando scrivono fanno un casino appoggiano la mano fanno gli sbaffi oppure a me capita spesso se dovessi fare un cipher come quello lì con 340 caratteri dopo un po' io non farei tutto sempre così tipo veramente tipo timbrino come ha fatto lui ma appoggerei la penna come una specie di rincorsa e se la penna non è veramente una penna molto particolare dopo un po' si vedrebbero delle macchie di inizio e degli sbaffi di fine un'altra cosa che emerge voi se avete presente quando fate un cerchio o un giotto ma quando si fa un cerchio si tende a fare a non chiuderlo perfettamente cioè in cima poi viene il tirabashi viene come dire una specie di burrata con la punta che non è chiusa perfetta ma rimane un po' a sacchettino tipo la burrata che rimane la punta in cerchio cioè non fai un tondo perfetto invece lui fa dei tondi perfetti e li fa chiudendoli senza lasciare sbaffi se voi guardate i cipher di Zodiac non c'è uno sbaffo nemmeno a pagare l'oro ci possono essere appunto dei discorsi di parallelo che non c'è ma quello che emerge è che lui è come se fossero tanti piccoli timbri perfetti perché lui non sbaffa nemmeno una lettera e questa cosa qui detto da uno appunto e comunque un po' di danni in studi d'arte vari l'ho fatta e non è semplice non è semplice l'altra cosa che manca totalmente sia nella lettera dei vagheggi che nei cipher è la perdita dell'orientamento che dicevamo quello grafologico cioè non non devia dalla verticalità e dall'orizzontalità del posizionamento dei caratteri cioè ogni carattere è precisamente uno sopra l'altro e uno accanto all'altro non c'è un cambio d'orientamento quindi si potrebbe aver usato una una griglia però allora se fosse una griglia cioè veramente una maschera tipo una veramente una silhouette messa appoggiata lì e nel nei buchi lui ha disegnato è scomodo cioè non è una cosa comodissima da fare lo stesso se avesse usato una matita non lo so questa cosa andrebbe visto cioè se si ha fatto una griglia a matita e poi dentro ci ha disegnato andrebbero viste le perizie di Zodiac non l'ho guardato perché appunto ve l'ho detto è una chiacchierata però è certo questo che al di là del modo in cui l'ha fatto che anche se te ti metti inchiodato e quindi fai veramente solo il buco è una deviazione se uno è portato ad avere delle deviazioni ce le avrebbe invece lui ha in quei casi lì quando fa mentre quando scrive se voi vedete le lettere tendono a essere un pochino a onda ci sono un po' non sempre scrive perfettamente allineato Zodiac nelle lettere quelle che ha scritto però ha una bella calligrafia invece quando fai cipher e lo stesso la lettera dei vagheggi hanno la peculiarità di avere di essere tutte linee tutte tutti i caratteri perfettamente in linea e senza appunto senza deviazioni rastremature o andamenti man mano che la scritta procede quindi ci sono appunto ci sono delle quindi delle appunto delle suggestioni che quantomeno devono far approfondire lo studio ecco la cosa che appunto ci manca di sapere che è determinante e ve lo dico appunto da uno che comunque ha fatto anche studi artistici se la prima cosa che dobbiamo sapere è che penna ha usato perché è una penna sicuramente di buona qualità e perché già la china la china sbaffa quindi deve aver usato una penna tipo gel perché lo stesso se fosse una stilografica sapete la stilografica tende a macchiare quindi bisogna capire che penne c'erano tipo gel negli anni 60 fine 60 capire che tipo di penna aveva utilizzato zodiac se quella del bagheggi è una penna simile perché appunto ha le stesse particolarità cioè di non fare delle gocce di di appoggio quando vado a fare la lettera e finisco la lettera tali da uscire dalla sagoma del tratto quindi la goccia del tratto rimane interna al tratto stesso quindi non è una penna anche la la stessa biro la biro ha un tratto totalmente diverso rispetto a quello perché la biro invece tende ad avere e se la biro la biro nasce dal signor biro che vide cascare una sfera sull'asfalto rovente questa sfera rotolando sfera metallica fece un tratto perfetto a terra e da lì inventò la penna biro 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 vuol dire biro 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 dentro la penna biro che fa questo tratto molto preciso finché la sfera rotola bene l'inchiostro il liquido se vede se vi ricordate appunto quando la penna comincia a essere un po' secca o un po' che scrivo e quindi anche l'appoggio è tendono a saltare dei pezzetti di tratto cioè la appena la prendo la penna il primo tratto che faccio è sbaffato perché perché si è seccata l'inchiostro sulla punta e il primo tratto che faccio mi fa il pelucchio mi fa la goccina un po' più larga mi fa il tratto diciamo con degli intervalli e soprattutto ogni volta che io vado a chiudere mi fa una sorta di sbaffo perché perché io vado a sollevare lentamente la penna man mano che sto finendo la sfera appoggia sempre meno nel foglio che quindi fa meno tra virgolette da cuscino ma si va a tirare su quindi l'ultimo tratto sarà a punta non finisce in modo netto finisce a punta cioè con lo sbaffo oppure con una goccia se io mi fermo con la penna la faccio salire un attimo perché l'inchiostro tende ad allargarsi quindi quello sarebbe un abiro un altro tipo di inchiostro bisogna capire che tipo di penna è ed è determinante perché appunto vi dicevo non è affatto semplice mantenere quel livello di precisione addirittura per 430 caratteri e e e non fare gli errori tipici di appoggio e sbaffo che fanno tutti e nemmeno delle come dire dei vizi nel momento in cui vado a chiudere le figure cioè lui se andate a vedere i cipher di zodiac i triangoli sono triangoli i quadrati sono quadrati non ci sono trattini che trasbordano cioè lui fa il triangolo non c'è tipo capannina degli indiani il tratto su al vertice superiore che esce perché sono stato svagato e quando ho chiuso il vertice superiore sono andato oltre con la linea no lui fa un triangolo perfetto poi magari appunto ci sono dei problemi di inclinazione ma il triangolo è chiuso perfettamente e così via il più il più è un più non è un più con un tratto tra i due bastoncini io se faccio un più diventa praticamente un alfa perché tendo sempre perché appunto mano pesante pigro tutto quello che vogliamo tendo a non staccare completamente se soprattutto una cosa faccio sì che dopo quattrocento quattrocento letterine potrei fare quell'errore lì perché 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 sì perché si fa lui invece questi errori non li fa rimane energico preciso lucido per tutti i test per tutti quindi li ha fatti in un unico in un'unica mandata oppure si fermava si riposava per farli perfettamente anche questi risultati sono importanti da sapere quando si fa un un quadro psicologico di una persona e lo stesso li ha fatte prima in brutta e poi li copia in modo preciso questi sono tutti argomenti che vanno sicuramente Daniele Trinchieri ne sa ne sa più di noi però comunque sono tutti argomenti che andrebbero approfonditi andrebbero studiati nel momento in cui poi si vuole veramente fare una perizia nel momento in cui dovessero emergere degli dei riscontri in più come Valeria sta vecchione ha insomma fatto presagire importante sarà intanto vedere se queste queste che ho detto io non sono solo suggestioni ma se ci potesse essere un collegamento un po' più approfondito appunto e chiudo i simboli che ci sono sulla retta dei vagheggi purtroppo sono pochissimi quindi non a parte la penna quindi la perizia merceologica e quindi la perizia merceologica dell'inchiostro utilizzato aiuterà molto di più di quei pochi 20 simboli che sono pochissimi 50 simboli numero insufficiente per farsi un'idea di tipo scientifico però comunque un quindi un una una sorta di armonia si può intuire questo sì sono aperto chiaramente anche alla critica io non dico che è così ho detto che è difficile trovare delle persone che abbiano quel tipo di precisione poi può benissimo essere un caso perché appunto si parla di sono vent'anni di differenza tra il sessantotto e l'ottantotto l'anno in cui è stata fatta questa lettera dei bagheggi quindi sono vent'anni di di tecnologia diversa vent'anni di vita diversa quindi non è neanche detto che il tratto che avevo io a a vent'anni è lo stesso che c'è ora che ce n'ho 40 ok però delle similitudini si possano sempre trovare soprattutto una cosa su cui io batto un attimino di più è veramente la la bravura con cui graficamente rappresenta in modo molto preciso e allineato continuamente dei simboli molto particolari è possibile che abbia ricalcato nel senso abbia messo il foglio sopra le immagini e con la penna riportato quelle immagini non so se mi sono spiegato sì sì quello sì il il fatto comunque sempre non esisteva il computer quindi per farli allineati vuol dire che comunque anche se l'ha ripetuti l'ha fotocopiato l'ha fatto con la carta carbone lui può averlo fatto in qualunque maniera comunque di fondo l'ha sempre disegnato lui lui poi può aver preso come dire dei appunto delle delle basi no da qualche altra parte però quello che che si vede anche con con come si chiama i con i cipher di zodiac proprio che lui i i simboli comunque tende a inventarseli cioè comunque sono dei simboli rimaneggiati dai simboli molto semplici poi appunto c'è la questione che da spariti libri insomma quello chiaro no potrebbe aver copiato dei simboli altro ma fondamentalmente sono cerchi triangoli e simboli zodiacali leggermente modificati sono lettere modificate quindi non è niente di di particolare la questione è che manca ecco di simbolo zodiacale presente sia nei bagheggi che nel nei cipher di zodiac c'è quello dell'ariete rovesciato tipo ancora e credo sia la luna che è una specie di di con un puntino se non vado a memoria che ce n'è uno simile che è una di rovesciata che usa in un cipher ma poi poi ci sono altri altri piccoli simboli cioè ci sono varie suggestioni che si possano vedere anche i simboli in testa nel bagheggi che sono appunto il mercurio c'è venere c'è il sole sono dei simboli comunque fatti molto piccoli e molto precisi poi chiaramente anche lì la fotocopia di una foto fatta a vedere a chi l'ha visto cioè non si stima neanche bene la dimensione però sono molto piccoli quello che si vede è che sono molto piccoli ma molto precisi poi immagino che l'abbiano fatto sicuramente diciamo quei simboli legati alle date degli omicidi per esempio l'avranno sicuramente pensata perché a me rimane un po' mi ha colpito molto la data del primo omicidio fatto da Zodiac in America che è il 20 dicembre 1968 68 sarebbe l'unica l'unico omicidio duplice omicidio avvenuto in inverno almeno così viene considerato però non è proprio inverno ancora non c'è stato no sì è il sostizio sì ma poi infatti comunque le date non sono casuali quelle di Zodia che c'è anche il 4 di luglio c'è e quello infatti che fa un po' sobalzare nella lettera dei bagheggi è quell'ultima linea in fondo con questo rettangolone nero e le effemeridi del giorno 21 giugno 1990 quindi 21 giugno anche lì è il sostizio d'estate quindi insomma è molto molto particolare non ho non so se qualcuno sa di qualcosa che possa essere perché lui praticamente invia questa lettera nell'88 e segnala quel giorno lì io non so se quel giorno lì poi è successo qualcosa non sono riuscito a trovare nulla non ho cercato neanche tanto però sarebbe curioso di capire se in data 21 giugno 1990 poi è successo qualcosa andando poi alla questione effemeridi e 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 segnati nei segni zodiacali e le effemeridi sono praticamente delle tabelle che venivano usate prima adesso col computer si fanno i temi natali e i temi si fanno direttamente col computer ti viene subito tutto e se sei un astrologo vedendo i vari transi ti capisci in base a alcune ehm ehm alcune eh come dire eh peculiarità di ogni pianeta in base a se è in trigono piuttosto che opposto eccetera e come eh nei transiti con gli altri astri cosa potrebbe accadere ora io sto parlando con la mia cara amica Lucia che anche Angelo eh Franca conoscono stiamo cercando di capire se questo eh questi questi intanto c'è un errore fondamentale che infatti è quello che poi mi ha fermato quando quando vedi la tesi che quando quando la vedi per per fare la tesi che uno delle delle come si chiama una delle uno dei delle effemeridi messe eh non corrisponde all'omicidio è uno dei due omicidi dell'ottantuno praticamente l'omicidio è avvenuto il quattordici alle per dirvi vado più o meno eh sono indicativi il quattordici alle ventidue e la data è abbastanza certa però lui ha messo il quindici a cioè a quel transito lì era il giorno quindici alle ore boh due di notte roba del genere cosa che secondo la ricostruzione degli inquirenti non poteva essere quindi quel mi pare sia Mosciano eh non mi pare sia l'orario di Mosciano però non vi direi una bugia ora stiamo cercando di capire se per quell'unica o per altre ci sono errori analoghi e se eh facendo quindi eh una sorta di 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 calcolo aritmetico tra i gradi delle effemeridi giusti e quelli sbagliati dovesse uscire qualcosa perché se davvero era uno come Zodiac no Zodiac ma uno come Zodiac che nascondeva tranelli trucchi e rebus dappertutto che ne sai che non venga fuori qualcosa poi ehm abbiamo fatto anche stiamo facendo anche i temi natali eh e i calcoli in base ai temi natali per capire se c'era un come dire eh se eh l'assassino prediligeva un certo tipo di quadra strale ovvero ci sono dei ritorni di Marte sempre con la Luna quindi Marte e Luna che ritornano quindi c'è da capire era lui che li sceglieva e che già uno che si fa chiamare Zodiac è tutto un programma qua addirittura arriva una lettera con i segni zodiacali e quindi abbiamo detto ok lui agiva perché spinto dagli astri oppure lui faceva il calcolo vedeva che c'era Marte in quella posizione allora eh agiva anche questo appunto è attivo passivo no? diciamo è cioè lui sceglieva oppure era guidato e questo è molto importante perché si presuppone che lui ne capisse però individuava quel giorno lì quindi questo stiamo studiando non è semplice affatto perché appunto comunque ci sono varie varie questioni insomma anche complesse per poi trovare alla fine un una qualcosa che sia in qualche modo non lasci dubbi e e poi appunto c'è da capire se la mano può essere sempre la stessa questo è chiaro sicuramente gli omicidi di Zodiac avevano delle cose in comune e quelli del mostro hanno delle cose in comune il 68 non ha cose in comune con nessuna dei due quindi il 68 è sicuramente un'altra mano e secondo quanto appunto emerge dai quadri astrologici che però dobbiamo ancora finire di vedere quindi però già emergerebbe che il 68 quindi eh signa e potrebbe avere una mano diversa perché ci sono altre cose però appunto dobbiamo un attimo mettere tutto in insieme e e poi vedere se si riesce a fare una riflessione un pochino più più ampia anche perché appunto se uno si fa chiamare Zodiac un altro manda i i pianetini agli inquirenti dare un'occhiata a quello che quantomeno le carte del cielo davano quei giorni lì visto che poi l'ha messi sulla lettera può essere interessante anche per capire che tipo di di giochetto stava facendo con quella lettera bene bene allora guarda io volevo fatti l'ultima domanda riguardo al 68 ma mi hai preceduto perché ti si è fatto la domanda e ti si è dato anche la risposta quindi no è solo un'ora che hai parlato tutto di fila quindi so che poi devi andare anche via quindi è il caso di salutare tutti quanti e andare tutti a dormire anzi no io e Franca dovremmo perché ci saranno dei contenuti diciamo esclusivi per gli abbonati che giustamente qualcuno anche se pur poco paga 99 centenze però dice a me non mi dai io pago io pago io pago anche la franca ma pago lo sai che lo sai che io con un altro account mio pago io mi pago perché devo raggiungere la cifra per ritire i soldi se no non è inutile allora va bene allora se io sono veramente a posto così nel senso hai fatto anzi ti invito quando sarà il momento salutiamo la cara Lucia giornalista siciliana ormai io si chiama amica insomma ci conosciamo poco abbiamo fatto le chiacchierate al telefono su altri casi cronica tra cui il caso di Resinovic in molti Firenze eccetera eccetera e niente parleremo anche di io e Franca di un altro argomento e con diciamo quando vanno sarai pronto insieme a Lucia appunto mi invito altamente a venire a esternare le vostre cose qua e i vostri i vostri risultati se ne otterrete ma presumo di sì perché vediamo semplicemente eccelse poi sai è come dire nella vita nella vita si sbaglia tutti avete visto all'inizio dell'emissione ho detto a Franca è un podcast in realtà ho sbagliato io e quindi abbiamo però ho già rimediato perché mentre tu parlavi visto che dovevo fare domande ho realizzato la copertina del podcast va bene Franca mi lascio i vostri studi e alla prossima bene perfetto allora io vi saluto con la tromba e con l'imbudo se è un gatto miau se è un cane bau se è tardi ciao Franca vuoi fare una domanda no? niente volevo fare dei complimenti a Luca Tacchi al dottor Luca Tacchi io molti me lo dicono io non sono competente in questo canale davvero sto imparando tantissime cose grazie appunto ai vari criminoni io prima che Luca vada via vorrei fare un piccolo appello che non vuole solamente essere polemico però anche io ho letto che ci sono delle persone ma non solo a te lo hanno detto anche a me ma a me io per fortuna ormai sono anni che faccio delle missioni mi hanno minacciato di modi quindi figuriamoci se io mi offendo se qualcuno mi dice che sono incompetente io invito naturalmente tutti quelli che dicono che noi siamo degli incompetenti a venire qua e a farci ascoltare la loro competenza io lo dico sempre se voi siete più competenti di noi io il canale è aperto a tutti oppure se ne avranno uno loro e lo fanno sì sì ma io non gli do nemmeno la fatica di aprirci un altro loro vengono qua ci mettono la faccia e poi fateci caso sono tutti commenti di persone e io che ringrazio solamente perché mi aumentano l'engagement io lo chiamo così anche se non si pronuncia così lo so del video perché tutte le volte qualcuno commenta il video youtube lo fa salire nel motore di ricerca quindi se vi volete fare uno spreccio non mettete né pollici in su né pollici in giù e non commentate altri volete commentare offendendo aumentate il prestigio del video la realtà dei fatti seppur dura è questa quindi io invito caldamente a tutti quelli che dicono che noi siamo i competenti di venire qua e di elargire la loro competenza diciamo alle nostre piccole menti va bene? grazie Luca ora io e Franca ne vediamo un attimo grazie a tutti che invece è un'ottima ricercatrice anche anche indipendente tutte le volte fa sempre delle presentazioni molto molto complete e soprattutto puntuali difficilmente ho trovato lacune nulla cioè può essere per diti che magari la storia che poi è quella che vado a cercare io da complottisti che le vado a trovare chissà in quale ganglo della società ma in realtà poi da sempre delle visioni molto obiettive e molto precise quindi lascia le ghiacchelardi bene bene grazie a tutti buonanotte